I just had to let you know you're fine Hands on your body, I don't wanna waste no time Feels like a rebel, even if forever's tonight Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Danilo e oggi siamo qua ritrovati su Sniper Arena Ragazzi, cosa c'è da dire? Iniziamo a provarlo subito perché ho già fatto qualche partitella per conto mio E devo dire che non è uno dei soliti giochi che ci spenderei del tempo Però comunque può essere divertente Facciamo Deathmatch, anche se non penso che comunque è multigiocatore Perché riesco a uccidere praticamente tutti in modo easy, con colpi alla testa E non penso che su un gioco di 10 milioni download ci sono tutti i nabbi Oh, che sono forte io, però non penso perché ho il primo fucile, cazzo Non lo so Andiamo subito, vedo già questo Vedo già questo Alla testa PAM! Headshot Ok, allora, ambientazione veramente carina, diciamo dai Carina per un gioco di questo tipo Direi che è Uh Colpito, ok Non l'avevo ucciso del tutto Dov'era gente? Gente di mare! Eh, io sento sparare ma non vedo nessuno Perché non vedo nessuno? Perché sono c... No, scherzo, perché non mi sto guardando bene in giro, ok? Tipo sorridi? Ok Spero Che Vai Aspetta Che cazzo è che l'ho ucciso? Ragazzi Io non Vai, vai Vai Ok, colpo la testa Colpo la testa Ma Aspetta, mi stanno forgendo dei dubbi Non è che magari non ci sono proprio avversari Però si è in squadra con della gente Perché comunque Oh Oh Cazzo è tutta... Oh, Gesù Gesù Proteggi Ah, eccolo qua Guardalo qua Vaffanculo, sono morto Vaffanculo Mi hanno ucciso Però noi spendiamo gemme perché siamo gente per bene E non vogliamo morire del tutto Eccolo qua, guarda Vai Ok L'abbiamo ucciso L'abbiamo ucciso Gente, gente, gente Vai Oh, lo stavo uccidendo, stronzo Stavo uccidendo Stavo dicendo, ragazzi Mi sta sorgendo un dub Perché non è che magari Il multigiocatore si tratta Io con altre persone Che uccidiamo Quell'altro gruppo Non so se sono bot Perché per essere personale Normale Mi sembrano troppo stupide Però Va bene Allora Nell'armeria abbiamo una vastità Di cecchini Di armi Che comunque Costano quanto Gesù Noi compriamo Noi compriamo Perché Ci serve comunque Un po' di Un po' di armi potenti Possiamo potenziare addirittura Le nostre armi Per renderle più potenti Per Uccidere molto più velocemente Quindi fare più punti E essere In primi Nel multigiocatore Ma l'utenzione Non ho capito bene Che cazzo serve Magari dopo Tott battaglie Si deve riparare i fuggiti No, non lo so Non chiedetemelo Andiamo alla battaglia Multigiocatore Cioè Deathmatch Abbiamo già provato Direi di provare A squadre Deathmatch Fatto Duello È ancora bloccato Deathmatch A squadre Ecco Proviamo qua Questo deathmatch A squadre Che non mi sembra Di averlo provato Sono curioso Voglio Voglio vedere Di cosa si tratta Ho visto Perché l'ho scaricato Perché ho visto Un sacco di pubblicità Scarica Sniper Arena Scarica questo Scarica questo Ho detto Proviamo Poi Se va male Abbiamo fatto un video E voi l'avete visto Allora Oh Con il mio mega Cecchinozzo Come faccio a Ah ok 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 Però è troppo È troppo È troppo Ragazzi Aiutatemi Ok Così è troppo poco Ok Uh Ma che schifo Che schifo è Ragazzi Non muore Non muore Sto figlio Di Billadel Mal Mal Uh Senza mirare L'ho ucciso Ma è ancora più scarso Di quello che ci avevo io Oh Bella tipo Bella tipo Bella tipo Tu spara eh Che io cerco Qua Eccolo lì Eccolo lì Il figlio di Osama Guarda Pam Eh sì Col pisello storto Ok Qua non c'è Sì vedo gente Vedo gente Ok Ok Colpo in testa Bellissimo Bellissimo Mi piace Qua gente Buongiorno tipo Ok Pam Colpito Vedo qua Uno stronzo Su qua Uh Wow Carica 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 Muoviti Muoviti Che c'è gente Che ti spara Ok Non so se l'ho ucciso No però Comunque Vai Ah Vai L'abbiamo ucciso L'abbiamo ucciso L'abbiamo ucciso Aspetta 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 Non morire per favore Non morire No Volevo ucciderlo io Arrivo sempre Primo io Strano Ma per me è un po' Fix Non lo so io Non lo so però comunque Adesso ho visto Che ci sono due persone Penso Penso che abbiamo fatto Che gli altri erano personaggi veri Perché erano molto Mi sembravano molto più robusti Rispetto al solito Siamo saliti di livello Sì Dai Oh Sei stato promosso Ok Riceviamo noi tutte le ricompense possibili del mondo Ok Ragazzi Termino qua questo video di Sniper Arena Se il video vi è piaciuto Scrivetevi nei commenti Se volete un altro episodio Come Se è un vero multigiocatore Perché io Non lo so Perché non l'ho mai provato Se vi è piaciuto Iscrivetevi Commentate Vi lascio come al solito I link in descrizione Delle nostre pagine Instagram e Facebook E se volete Un altro episodio Di Sniper Arena Arriviamo a 15 Like E Noi ci vediamo Nel prossimo video Bella a tutti ragazzi E